Il tempo è scaduto e al momento nessun accordo è stato raggiunto tra il PD e l'Ulivo 2.0. È stata una giornata frenetica di trattative telefoniche e riunioni tra Roma e il Molise. Lorenzo Guerini e Matteo Ricci da Via del Nazareno a Roma hanno provato in tutti i modi a ricucire gli strappi nel Partito Democratico, ma alla fine ogni tentativo è risultato vano. Paolo Frattura, dopo un lungo tira e molla e dopo aver offerto la vicepresidenza della Giunta regionale a Roberto Ruta, che ovviamente ha rifiutato, ha deciso di andare avanti con chi ci sta. Il senatore d'accanto suo, dopo aver atteso in vano il terzo nome per la candidatura unitaria alla Presidenza della Regione, ha chiamato a raccolta i suoi aspiranti consiglieri e ha avviato la procedura per la composizione delle liste. La trattativa tra il PD e Molise 2.0 potrebbe ancora riaprirsi nelle prossime ore, ma il finale appare già scritto. Dunque, a meno di sorprese dell'ultima ora, saranno cinque i candidati presidenti, ovvero Paolo Frattura per quel che resta del PD e del centro-sinistra, Roberto Ruta per Molise 2.0, sostenuto da Sinistra Italiana, Socialisti in Movimento, Italia dei Valori, Democratica, Comunisti italiani, Centro Democratico e Liberi e Uguali. Donato Doma per il centro-destra, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia, Orgoglio Molise, Popolari per l'Italia, Movimento Animalista e altre liste civiche. Michele Marone, Energie per l'Italia, sostenuto da tre liste civiche. Andrea Greco, Movimento 5 Stelle, sostenuto dalla Omonima Lista. Secondo i ben informati, diversi candidati nelle liste di centro-destra sarebbero stati sostenitori di Paolo Frattura negli ultimi cinque anni, ma questo lo verificheremo all'atto della presentazione delle liste.